Abbiamo avuto la visita la settimana scorsa di una troupe televisiva di Antenne 3, che è l'equivalente della nostra Rai 3, per una trasmissione che i francesi seguono, mi dicono, con una certa intensità. Questa trasmissione tratta del cibo italiano. Ormai il cibo italiano è diventato concorrente del cibo francese, quindi tutto quello che è agroalimentare, anche pesca o acquacoltura, rientra nei loro interessi. Già hanno fatto trasmissioni sul parmigiano reggiano, sul valdobbiadene, sul tonno, quindi siamo rientrati anche noi, siamo stati contattati tramite conoscenti. È stata una giornata intensa, perché è partita dalla notte, dalle due e mezza della mattina, con un'uscita in mare, con una verifica di tutto quello che fa il consorzio di gestione delle vongole, cioè l'attività di controllo, di inseminazione, di ripopolamento e di controllo anche della taglia di queste vongole nel rispetto delle normative. Poi ci siamo trasferiti nel nuovo stabilimento della società Copromo e lì abbiamo visto tutti i tipi di elaborazione, quella che va all'estero, soprattutto in Spagna, e quella che sta sui mercati nazionali, va alla grande distribuzione. E da ultimo abbiamo chiuso con una degustazione che ci ha organizzato il ristorante La Lanterna. Insomma, hanno assaggiato un po' i prodotti della nostra tradizione, la polenta con le vongole, i spaghetti con le vongole, oppure i ceci e i vongole. Anche raccontando appunto la modalità. Sì, sì, sono rimasti impressionati dalla sostenibilità di questa pesca, cioè nel senso che tutto quello che peschiamo in eccesso o sottotaglia viene rigettato a mare. Questo significa che quel prodotto non muore, ma continua ad avere una propria vita, a differenza di altre attività che sono forse un po' più impattanti. Quindi trovare una pesca sostenibile, in grado di tutelare gli stock, per loro è stata una bella sorpresa.